Il muro è caduto, un altro passo storico a Trani verso la realizzazione del progetto di allargamento dalla sede stradale di via Pozzopiano, un'opera attesa da circa 40 anni e che ha visto sorgere il proprio cantiere il 13 maggio scorso, soli pochi giorni fa. Un momento celebrato come una festa, soprattutto dal comitato di quartiere sempre in prima linea in questi anni, chiedendo che quel muro fosse buttato giù una volta per tutte. Adesso quel desiderio è diventato realtà, il muro è caduto, parole che insieme ricordano avvenimenti storici di assoluta importanza ed oggi anche a Trani un pezzo di storia è stato sicuramente scritto. Il sindaco Medeo Bottaro ha voluto presenziare questo momento tanto atteso, dando anche alcune delucidazioni su quelli che saranno i tempi di conclusione dell'intera opera. L'obiettivo, quantomeno, è di vedere il termine dei lavori entro il mese di giugno. Finalmente viene giù oggi il muro, di fatto. I tempi per la realizzazione dell'opera completa più o meno sono 60 giorni, almeno anche se sono di più, ma l'impresa ritiene di poter fare tutto in 60 giorni. E' chiaro che noi contiamo già per metà giugno di vedere l'opera finita, l'allargamento fatto e la sede stradale ripristinata con i marciapiedi. Giorno più, giorno meno, oramai l'allargamento è già una cosa di fatto.